Sensori che ci dicono se l'aria che respiriamo è buona o meno, droni che dall'alto rilevano la presenza di sostanze tossiche, app per valutare la sicurezza di ponti ed edifici storici o registrare informazioni sulle piogge che cadono sui nostri tetti. In altre parole, la tecnologia applicata alla vita quotidiana, nata dal lavoro dei ricercatori coinvolti nei 20 progetti presentati sul palco del Cinemateatro della Compagnia Firenze. Nell'ambito dell'evento promosso dalla Regione Toscana, la ricerca va in scena, politica e in azione. Una giornata intensa per fare il punto sul settore della ricerca e dell'alta formazione, che in Toscana rappresenta un sedicesimo dei posti di lavoro totali. Prima parte dedicata proprio ai progetti innovativi, finanziati con i 51 milioni del bando Farfas 2014, nato dall'accordo di programma del 2013 tra Ministero dell'Istruzione, Agenzia per la Coesione Territoriale e Regione Toscana, a cui il presidente Enrico Rossi ha annunciato l'aggiunta di ulteriori 8 milioni per finanziare altri 6 progetti. Platea gremita e sguardi puntati sui 12 ricercatori che hanno illustrato con slide, video e grafiche i loro progetti capaci, insieme agli altri 8 presentati nella speciale esposizione allestita nel foyer del teatro, di creare 250 posti di lavoro. Risultati che riguardano i settori di smart city, aerospazio, energia e industria 4.0 e che danno la misura, ha detto Rossi, di quanto alta formazione e ricerca sappiano attrarre investimenti ma anche migliorare la qualità della vita. Le ricerche che abbiamo sentito sono ricerche che a mio parere si collocano nell'obiettivo di uno sviluppo più qualitativo, più ambientalmente sostenibile, più socialmente sostenibile, alla fine creare benessere, giustizia e direi anche più serenità per tutti. Anche questo è un altro aspetto a cui come abbiamo visto la ricerca può dare un contributo fondamentale se indirizzata adeguatamente verso questi fini anche dalla stessa politica. Il segreto del successo dei progetti presentati e della loro ricaduta sul benessere sociale sta nell'aver messo insieme il mondo della ricerca e della formazione con quello delle imprese che operano in Toscana. Le idee sviluppate possono aiutare le stesse imprese a superare le loro difficoltà. Noi lavoriamo moltissimo per far sì che le imprese innovino maggiormente, sono le imprese che innovano di più quelle che riescono a sopravvivere e quindi è necessario dare un'iniezione di innovazione e ricerca anche nelle imprese che sono più piccole, che costituiscono poi la stragrande maggioranza del nostro tessuto imprenditoriale e che sono meno avvezze alla ricerca. Per questo motivo, oltre ai grandi bandi, che sono bandi destinati soprattutto alle grandi imprese, noi realizziamo anche misure per l'inserimento anche nelle imprese più piccole di giovani formati. Lo strumento che ha permesso di centrare l'obiettivo e finanziare i progetti, il bando FARFAS 2014, è stato pensato per abbracciare sia le nuove tecnologie utili a garantire un sempre maggiore risparmio energetico, sia quelle legate alla fotonica, all'optoelettronica, alla robotica e alle ICT, il tutto unendo risorse regionali e nazionali. Abbiamo messo a sistema un pacchetto di fondi per costruire un bando rivolto alle imprese, un bando di cui, appunto, al bando hanno partecipato ricercatori universitari, ricercatori di imprese che poi, appunto, lavoravano con imprese per lo sviluppo di applicazioni pratiche della ricerca. E i risultati a cui si è giunti esplorano veramente tutti i settori in cui possono essere applicate le nuove tecnologie. Per esempio, c'è chi guarda l'edilizia sostenibile con materiali innovativi realizzati attraverso le nanotecnologie. Il nostro progetto SELFI, si chiama SELFI, l'acronimo è Sistemi Multilayer per l'edilizia sostenibile, si è occupato di realizzare un prototipo di facciata multistrato che comprendesse materiali innovativi che, combinati tra di loro, potessero raggiungere l'efficienza energetica negli edifici, e cioè la riduzione dei consumi di energia primaria, che è oggi una necessità improrogabile. Ma c'è anche chi ha visto una nuova frontiera della ricerca nei droni, anzi negli sciami di droni, i cui sensori sono in grado di rilevare le sostanze tossiche e le radiazioni, oltre che di controllare le acque e ispezionare le condutture, partendo da un'idea precisa. Le tecnologie stanno evolvendo, i sensori si stanno riducendo in dimensioni e costi, e quindi sono sempre più applicabili sul sistema di pilotaggio remoto di dimensioni medio-piccole. Questi sistemi di pilotaggio remoto possono essere coordinati in sciami, e quindi velocizzare le acquisizioni o addirittura coordinarsi tra di loro per ottimizzarle. E poi c'è chi ha pensato alle tecnologie del futuro come a strumenti in grado di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni architettonici del passato. Un esempio? ICT e realtà aumentata per monitorare lo stato di salute degli edifici del passato con un sistema che mette insieme più elementi. Sensori wireless, quindi reti di sensori wireless, l'utilizzo di un drone, insieme all'analisi strutturale, quindi metodi matematici e algoritmi per l'analisi strutturale di questi edifici, per la loro salvaguardia e per la loro fruizione e manutenzione. Tra le idee andate in scena, come recita il titolo dell'iniziativa sul palco del teatro della compagnia, anche quelle che ipotizzano foglie gonfiabili al posto delle classiche paleoliche per immagazzinare più energia derivata dal vento, che pensano a nuove stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria a basso costo, che mettono all'opera turbine intelligenti o che cercano soluzioni per migliorare lo stato di salute dei cittadini, come il personal trainer elettronico che riduce i rischi cardiovascolari alle donne in menopausa. Soluzioni e proposte che ora la Regione Toscana continuerà a sostenere, come lo ha annunciato il Presidente Rossi nel suo intervento sul palco davanti a imprenditori e ricercatori, mentre un disegnatore in diretta traduceva graficamente sul grande schermo le misure annunciate. Metteremo altri 8 milioni dei fondi strutturali della Regione Toscana e anche del bilancio regionale per finanziare oltre ai 20 progetti già finanziati altri 6 progetti e che siamo disponibili a fare una cosa come un ufficio brevettazioni. In Toscana si produce tanta innovazione, tanta ricerca, però a volte si rischia che questa ricerca si propali, nel senso che venga o rapinata dalle multinazionali, magari in cambio di una borsa di studio, oppure che si disperda perché non viene brevettata. L'importante è mettere a sistema tutte le risorse e le forze a disposizione, sia regionali che nazionali, con uno sguardo sempre puntato sull'Europa. Io credo che l'esperienza che abbiamo fatto, che è stata tanta apprezzata, che ha prodotto molte cose, 250 lavoratori della ricerca in più, ma anche ricerche di grande valore, deve essere ripetuta, l'ho proposta al governo e strutturata dentro un progetto di collaborazione rafforzata. Io vorrei che diventasse il modo con cui noi ragioniamo. In questo quadro c'è anche l'Europa, come vi ho detto noi siamo in grado di prendere molti finanziamenti rispetto alle altre regioni, 60 milioni grazie al nostro sistema di ricerca e grazie anche al fatto che abbiamo supportato le piccole imprese nel domandare in Europa i finanziamenti. Adesso abbiamo aperto il nostro ufficio in Europa a tutti coloro ricercatori e piccole imprese che vogliono provare e noi faremo da facilitatori, da accompagnatori. Ora, alla sfida della valorizzazione e del rafforzamento di ricerca e innovazione, la Toscana ha deciso di rispondere con Toscana Open Research, il portale web presentato nella seconda parte della giornata, che mette a disposizione in formato aperto tutti i dati che riguardano il sistema regionale della ricerca. Cinque sezioni che spaziano dai dati su docenti e ricercatori, 4.140 secondo l'ultimo censimento, agli studenti universitari, 113 mila quelli iscritti in Toscana a un corso universitario nell'anno accademico 2015-2016, dalle aziende 270 a quelle che dal 2007 a oggi hanno partecipato ai progetti europei in Toscana per un ammontare di 132 milioni di investimenti, fino alle istituzioni e ai cittadini, su cui ricadono gli effetti dei progetti di innovazione. Si tratta di un portale che consente la mappatura dei percorsi di alta formazione, la mappatura della ricerca, la mappatura della collaborazione con le imprese. In che senso? Cioè noi abbiamo messo in comunicazione, fatto dialogare, open data, che già appunto erano presenti, erano conosciuti e quindi i dati europei, quindi dal portale Cordis, i dati dal portale nazionale e quindi i dati del MIUR Cineca con i dati regionali per capire appunto qual è lo stato dell'alta formazione e della ricerca in Toscana. Uno dei primi diciamo funzioni di questo sito sarà quello di permetterci di costruire delle politiche che siano basate sulla evidenza dei dati. L'altro obiettivo grandissimo è quello della trasparenza, cioè anche i cittadini, qualunque cittadino potrà andare a consultare questo sito e capire appunto dove i fondi per la ricerca sono stati utilizzati e quali risultati hanno raggiunto. Dati aperti e trasparenti, esaminati anche attraverso il confronto con le esperienze di altre regioni non solo italiane nel corso dell'evento al Teatro della Compagnia e riuniti nel portale che intende essere un supporto alle politiche regionali all'interno dell'Osservatorio Toscano della ricerca e dell'innovazione dell'IRPET e ora la regione pensa a un appuntamento fisso ogni anno con gli stati generali che riuniscano appunto tutti i ricercatori per guardare al futuro.